È, come dice bene, una misura che non va concepita nella logica di un semplice beneficio economico. Questo sarebbe un grande errore e sarebbe anche l'insuccesso di una manovra di questo tipo. Il reddito di inclusione in realtà è una misura di sostegno attivo. Questo significa che le persone vengono accompagnate verso processi di autonomia, di emancipazione rispetto alla propria condizione di povertà. Ricordiamo che la povertà si declina in molti modi. Non è solo povertà economica, è povertà educativa e povertà abitativa. Quindi è una misura che tende a creare un'infrastrutturazione. Questo vuol dire che ci chiama in gioco tutti, tutti quanti, le istituzioni, ma anche la società civile, perché si parla di una presa in carico delle famiglie più vulnerabili. Quindi va concepita fortemente come uno strumento di fuoriuscita dalla povertà trappola.